Buongiorno miei carissimi amici di Investire in Borsa a Caccia dei Dividendi. Torniamo con il nostro appuntamento periodico di Reagisco al Portafoglio di... E finalmente oggi vediamo il portafoglio di un ragazzo giovane, il 26enne Giacomo Castello. Che sia il suo vero nome o il suo nickname, questo non è dato a saperci, ma prendiamolo per buono. E dico finalmente perché abbiamo visto ultimamente molti portafogli di follower abbastanza maturi attorno alla mia età o anche qualcosina in più, con portafogli molto ben consolidati, importi elevati e insomma un portafoglio già costruito diciamo. Invece per quanto riguarda Giacomo, un ragazzo di 26 anni, il portafoglio è in via di costruzione. E ha già comunque raggiunto obiettivi secondo me importanti per avere 26 anni. Andiamo a vedere nel dettaglio quindi alcuni suoi dati e poi vediamo il portafoglio nel complesso. Attualmente Giacomo è uno studente, ha iniziato a lavorare anche circa 6 anni fa, quindi studia e riesce anche a lavorare. Complimenti innanzitutto per questa cosa, perché coniugare studio e lavoro non è affatto semplice. Durante questo periodo, dice Giacomo, ho risparmiato e investito gran parte del mio capitale. L'anno prossimo terminerò l'università e inizierò un tirocinio, il che mi permetterà di aumentare la mia quota mensile di risparmio. Al momento vive in casa con i genitori, non ha spese correnti, solo alcune una tantum. Al di là dell'età è un pochino la situazione che mi caratterizzava quando ero studente universitario. Vivevo in casa con i genitori, di spese ne avevo veramente molto poche e devo ammettere che i genitori tuttavia mi supportavano con qualche piccola erogazione, e ne chiamiamola così, però non mi piaceva approfittarne e al di là magari di farsi una birretta il venerdì sera, una pizza, ogni tanto non andavo oltre, insomma non ne volevo approfittare. Giacomo al momento non ha nessun appartamento o casa di proprietà e ha però una capacità di risparmio mensile attorno ai 500-550 euro. Molto buono direi, complimenti perché per uno studente non è così facile avere una capacità di risparmio di questo tipo e soprattutto per via, l'ho detto prima, di dover coniugare studio e lavoro. Obiettivo a breve e lungo termine è aumentare la quantità di dividendi ogni mese, creando un portafoglio low beta. Sono molto felice di leggere un ragazzo giovane che ha come obiettivo quello di aumentare il flusso di dividendi. Se io avessi avuto questa impronta fin da 24enne, ovvero quando avevo i primi stipendi stabili, forse adesso avrei già raggiunto il mio obiettivo di pensionamento anticipato. In realtà all'inizio mi barcamenavo tra strumenti semplici, buoni postali, conti di deposito che da un lato mi sono serviti perché mi hanno permesso di raggiungere l'obiettivo dell'acquisto della casa, dall'altro però hanno ferrenato un pochino la crescita del capitale e la crescita del flusso di dividendi. Quindi invece iniziare già a un'età molto giovane, 24, 25, 26 anni, a crearsi un portafoglio da dividendi secondo me è qualcosa di veramente eccezionale. Un portafoglio low beta, per chi non lo sapesse, vuol dire un portafoglio con volatilità abbastanza contenuta. Abbastanza contenuta rispetto a un azionario normale mi avrebbe da dire perché, andiamo a vedere adesso poi il suo portafoglio, è un portafoglio sostanzialmente totalmente azionario. La mia strategia attuale, dice, è incrementare la mia quota di etf puntando a un portafoglio composto per il 60% di etf e il 40% di azioni. Inoltre intendo aumentare i dividendi ricevuti fino a raggiungere 100 euro al mese, a tal fine nei mesi di febbraio. Maggio, agosto e novembre intendo incrementare gli etf FGEQ e ZPRG, voi probabilmente non li avrete mai sentiti e adesso vi dico quali sono. Mentre per il mese, marzo, giugno, settembre e dicembre, punto a incrementare l'etf Vanguard ai dividendi. Ti chiedo se è possibile se puoi consigliarmi qualche etf con un dividendo del 4-5% per i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Inoltre le azioni Playboy e Teladoc, che sono nel portafoglio, ormai le tengo per contabilizzare le minusvalenze. Peccato perché si tratta di azioni probabilmente prese in preda all'hype del momento. So che molti youtuber ne parlavano. Adesso non so se sono state scelte in base anche ad alcune analisi viste su YouTube. Peccato perché tutte queste azioni analizzate sull'hype del momento sono andate un pochino a farsi friggere. Vuoi Bayon Meat? Vuoi... Che altro c'era? Peloton? Insomma, tante altre che andavano di moda e poi sono miseramente crollate perché i bilanci erano pessimi. Insomma, non poteva essere altrimenti. L'obiettivo di raggiungere 100€ al mese in dividendi con una capacità di risparmio di circa 500€ al mese è abbastanza raggiungibile. Però il mio consiglio è quello di non fermarsi a 100€ al mese. Anzi, puoi andare ad incrementare questi obiettivi. Vedrai che, superati 100€ al mese, dirai ma sai che voglio arrivare a 200€, poi voglio arrivare a 500€ e via dicendo. È così. E posso dirti, per la mia esperienza, che poi la crescita a un certo punto diventa esponenziale. Perché dividendi acquistano dividendi. Andiamo a vedere alcune cose prima di analizzare il portafoglio. E' un portafoglio che abbiamo visto totalmente azionario per adesso. 40% azioni, l'obiettivo, ETF, ETF di cui parla sono tutti azionari. Un primo appunto è quello di valutare anche un fondo per le emergenze. Magari ce l'ha già, non ne ha parlato. E' assolutamente parlo di andare a prendere in considerazione perché prima o poi ci si laureerà e prima o poi si andrà ad abitare da soli. E' meglio costruirselo intanto. Come? Le opzioni sono tante, lasci i soldi sul conto. Fai un conto di deposito o magari un ETF monetario, ad esempio. Avevo analizzato Xeon, che potrebbe andare bene per aggiungere questo obiettivo. Altra cosa, pensa anche un pochino più in là, Giacomo. Prova a pensare anche ad altri obiettivi al di là dei dividendi. Magari un giorno vorrei acquistare casa? Magari vorrei acquistare un'automobile? Ebbene, questi qui sono obiettivi che secondo me non devono essere raggiunti tramite strumenti azionari, ma tramite strumenti obbligazionari. Quindi puoi valutare, eventualmente, non sono consigli di investimento, ma sono consigli di valutazione. Insomma, io cerco di far riflettere, poi ognuno deve prendere le proprie decisioni, però va a valutare anche magari obbligazioni che ti permettano di raggiungere questi obiettivi in serenità, senza essere in preda alle oscillazioni del mercato. Allora, per quanto riguarda i due ETF segnalati che sta incrementando, uno è il Fidelity Global Quality Income. A volte si trovano dei ticker differenti, anche su Google, sui fogli Google, io stesso non riesco a inserire tutte le quotazioni con i classici ticker a cui siamo abituati. Bisogna trovarne degli altri, magari perché sono quotati su borse tedesche, ad esempio. Ad esempio, FG e Q equivale al nostro FGQI, lo conosciamo così magari. E ZPRG, sì, è il Global Dividend Aristocrat di Spider, quindi il GLDV. Basta, solo questi due appunti. Per quanto riguarda un ETF con distribuzioni trimestrali, nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, mi sono appoggiato ad Extra ETF. Se volete, iscrivetevi a questo sito, molto utile, con il link che trovate in descrizione. Aiuterete a supportare il canale e per voi non ci saranno spese comunque. È un ETF globale con dividend yield del 5,45%, quindi potrebbe fare, al caso tuo forse, globale, molto semplice, il ticker è ISPA. L'unica cosa è che non è quotato su borsa italiana, ma è quotato sulla borsa tedesca. Non so se per te è un problema. In alternativa ce n'è anche uno, sempre di iShares e XSH, che è presente anche nel mio portafoglio, però investe unicamente in titoli europei. Non so se potrebbe fare al tuo caso. Altri particolarmente interessanti non li trovo, se no ci sono alcuni settoriali, ad esempio sulle banche, però non sono così ben diversificati, secondo me. Per quanto riguarda le singole azioni, abbiamo Playboy, l'abbiamo detto, un vero disastro, aveva raggiunto addirittura i 50 dollari, adesso siamo a 61 centesimi. Si sta praticamente azzerando. Non conosco bene la situazione finanziaria di questa azienda, però il prezzo dell'azione parla chiaro. Per quanto riguarda Teladoc, aveva raggiunto circa i 300 dollari, adesso siamo a 7. Anche in questo caso il prezzo dell'azione parla chiaro. Insomma, se si scende da 300 a 7, un motivo ci sarà. Andiamo quindi a vedere questo portafoglio che non è ancora da pensionamento anticipato. Se volete trovate il mio libro su Amazon in formato cartaceo e digitale. Però potrebbe essere un primo passo verso una libertà finanziaria, chiaramente non in tempi brevissime, perché qui ragazzi stiamo investendo, non stiamo giocando in borsa, come qualcuno dice. Allora, andiamo a vedere il portafoglio. In portafoglio Giacomo ha, con pesi comunque abbastanza bassi, tra lo zero virgola di portafoglio che è Teladoc, lo lasciamo stare, e un 9% totale del portafoglio, però mediamente siamo attorno a un 2-3%. Abbiamo assicurazioni generali, abbiamo Azimut, ENA, Equita Group, Innovative Industrial Properties, che è un REIT americano, che è uno di quelli che pesa maggiormente, con il 9%, 9% anche per Realty Income. Poi abbiamo Intesa San Paolo, Italgas, SNAM e The Italian Sea Group. Allora, possiamo notare una leggera sovraesposizione verso le azioni italiane, ma sono comunque esposizioni abbastanza contenute, 2-3, massimo 5% per ENAV, e due REITs, probabilmente per i dividendi costanti e crescenti nel tempo, ad esempio Realty Income. Le aziende italiane nelle quali ho investito sono SNAM, Intesa San Paolo, Italgas, ENA, Equita, Azimut e Assicurazioni Generali. Sono comunque aziende abbastanza solide. Per quanto riguarda il lato ETF, sono 4 ETF. Abbiamo la Mundi sui mercati emergenti, a distribuzione il Fidelity Global Quality Income, lo Spider Global Dividend Aristocrats e il Vanguard Fuzzi All World High Dividend. Sono, secondo me, 4 ETF ben diversificati, puntano chiaramente su dividendi in crescita e andiamo bene, insomma, sono globali, qualcosina in più sui mercati emergenti, che magari vengono un pochino tralasciati solitamente dagli ETF specializzati sui dividendi e sono anche ben pesati, insomma, ognuno ha un peso tra il 9% e il 21%. Sono 4 ETF che mi piacciono, tutto sommato. Si cerca di coprire un pochino tutti i mesi dell'anno e Giacomo ci fa vedere, anche tramite GetQueen, la distribuzione mensile che ha. Durante il 2024 si passa da un minimo di 20 euro a febbraio a un massimo di 317 euro a maggio. Maggio chiaramente pesa la presenza delle azioni italiane. In prospettiva, in prospettiva comunque, si mantiene mediamente, mi verbo da dire, attorno ai 50 euro al mese, grosso modo, senza contare questo exploit su maggio. Altrimenti, totale netto, viene indicato 1427. Quindi dovrebbe aver già raggiunto i 100 euro mensili di media. Forse, però, il suo obiettivo è quello di avere almeno 100 euro in tutti i singoli mesi. Il mio consiglio è quello, magari, di non focalizzarsi eccessivamente sul fatto di tutti i mesi voglio avere almeno 100 euro e cercare prodotti che vadano a distribuire in determinati mesi. Piuttosto, magari, di focalizzarsi sulla bontà delle scelte e degli singoli strumenti. Tuttavia, il portafoglio di Giacomo ha ancora un capitale abbastanza contenuto, 32.000 euro, ma per l'età, secondo me, è molto, molto buono. Cioè, arrivarci a 26 anni con 32.000 euro investiti e magari avrà anche un po' di liquidità da parte. La scelta fatta mi sembra abbastanza saggia. Se si ha voglia di studiare le singole azioni, va bene un 40 azioni e 60 ETF. Se si vuole qualcosa di più passivo, non si ha voglia, tempo, capacità di analizzare le singole aziende, magari si può incrementare la quota in ETF. ETF che mi sembra che coniughino abbastanza correttamente dividendi, insomma, sostenuti, dividendi che possano crescere e anche crescita del capitale. Perché ricordiamo che investire in dividendi non vuol dire avere solo dividendi, ma vuol dire anche vedere un aumento del proprio capitale investito. E tutti questi verdi, insomma, danno conferma di quanto detto, perché comunque gli investimenti sono tutti in guadagno. Poi calcolate che sta facendo anche un piano d'accumulo, siamo vicini ai massimi di mercato. Ragazzi, non è semplice andare a mediare al rialzo, ma va fatto, va fatto, soprattutto sugli ETF, perché prima o poi bisogna mediare al rialzo, perché il mercato sale nel lungo tempo, nel lungo orizzonte temporale, diciamo. Allora, abbiamo analizzato quindi questo portafoglio, composto da 4 ETF, semplici, solidi, secondo me anche efficaci. Sì, se ne potrebbero raggiungere degli altri, diversi, però secondo me la base di partenza è buona. Se volete, insomma, esprimere la vostra opinione, vedere di far crescere questo canale e magari dare un punto di vista differente a Giacomo, scrivetelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere con un like e iscrivetevi a investire in Borsa Caccia di Dividendi per non perdervi i prossimi video. Un saluto a tutti da Lorenzo, a presto e ciao.